Prima di entrare nel vivo dei panel sono molto molto contenta di invitare qui sul palco insieme a me Irene Tagliani che è la presidente provinciale di CNA Ferrara e che ci porta i saluti della presidenza regionale ma soprattutto sono felice di averla qui perché fino a luglio dell'anno scorso Irene è stata presidente regionale dei giovani imprenditori e quindi veramente hai sentito questo ringraziamento e ti passo la parola per i saluti. Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi di avermi invitato poi come diceva Marianna sono qui in vesto ufficiale per portarvi i saluti della presidenza regionale e del nostro presidente Paolo Govoni e del segretario Amadei che purtroppo oggi non sono potuti intervenire e mi hanno delegato ma diciamo che io sarei venuta comunque quindi vabbè non mi avreste visto qua ma comunque sarei stati in mezzo a voi perché come diceva Marianna io fino a un anno fa appunto è presidente regionale quindi mi sento parte di questo gruppo e poi ci tengo a dirlo per età potrei ancora farne parte quindi diciamo che sottolineiamolo perché mi fa anche se insomma non siamo più giovanissimi però va bene lo stesso insomma in CNA fino a 40 giovani ci ritengono e quindi noi ce lo teniamo stretto e niente che dire io devo ringraziare voi per l'invito ma soprattutto per quello che fate poi essendo passata dall'altra parte comunque penso di essere una delle più grandi sostenitrici ovviamente del gruppo giovani a livello provinciale ma anche a livello regionale con la presidenza di cui faccio parte perché credo che da qua nascano poi quelle che sono le idee e nasca il futuro di CNA questa CNA che sta cambiando lo vediamo tutti i giorni e credo che si sta cambiando e lo vediamo sempre di più nelle platee anche degli altri eventi che i giovani sono sempre più presenti e questo a me fa un grande piacere e se penso di aver fatto un pezzettino perché questo possa succedere lo continuo a fare tutti i giorni tutti i giorni porta avanti quelli che sono i nostri progetti quindi i vostri progetti e quindi grazie per quello che state facendo complimenti ovviamente a Elisa e a Marianna e a tutti gli altri perché so quanto è complicato organizzare questi eventi quanto è difficile quindi bravi bravissime anche per il disegno qui avete guadagnato assolutamente nel passaggio perché io sono negata in disegno quindi brava Marianna anche per questo e quindi niente grazie a voi di tutto e continuate così e mi raccomando invitatemi tutti gli anni grazie grazie a te Irene, Irene è proprio un bel esempio di giovani imprenditori che crescono anche se ancora per età ci ha tenuto a precisare che non è scaduta come tu grazie a te Irene è un bel esempio di giovani